bene buongiorno buongiorno a tutti è stato appena sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione università e ricerca è un contratto molto era un contratto molto atteso da quasi 48 mesi abbiamo con noi francesco sinopoli sinopoli della flc cgl segretario generale appunto del sindacato confederale buongiorno sinopoli buongiorno buongiorno allora la cgl è arrivata come gli altri sindacati rappresentativi alla sottoscrizione di questo atteso contratto a seguito di una trattativa che praticamente si è sviluppata in pochissime ore ci racconta sinopoli cosa è accaduto prima nel confronto con il ministero dell'istruzione con il ministro nuovo ministro giuseppe valvitare poi il giorno successivo all'aran certamente però serve una premessa noi abbiamo sottoscritto una parte del contratto collettivo nazionale di lavoro con un metodo devo dire assolutamente originale determinato dalle condizioni di cui vi dirò abbiamo anticipato le somme più importanti del trattamento economico fondamentale e nell'intesa politica con il ministro valditara orientato le risorse che erano presenti e previste per la valorizzazione professionale su un termine molto generico comunque per le retribuzioni accessorie su invece poste fisse ricorrenti risorse che verranno attribuite con la firma definitiva che arriverà al termine del negoziato che è ancora in corso sulla parte normativa e appunto sulla restante parte economica è avvenuto quindi un fatto nuovo e questa originalità è determinata da una scelta del governo quella di accelerare la distribuzione di questa massa importante di risorse dobbiamo considerare che è il comparto più grande della pubblica amministrazione dobbiamo considerare che si tratta di una spesa dello stato comprensibile gli arretrati che supera i 5 miliardi nel mese di dicembre quindi la disponibilità del governo a bruciare i tempi della certificazione del contratto generalmente ci vogliono dei quattro e sei mesi per poter arrivare a dicembre a distribuire queste risorse ha determinato una accelerazione del negoziato sulla parte economica fondamentale che ha portato poi dei benefici anche ulteriori perché in questo negoziato come è evidente dall'accordo siglato con il ministro Valditara riusciamo a inserire anche qui degli aspetti che non erano previsti in partenza come sempre avviene nei negoziati quando si fanno cose buone per tutti in particolare lo ribadisco lo svincolo delle risorse della legge di bilancio dell'anno scorso su cui come abbiamo visto le organizzazioni sindacali avevano sollecitato il ministro bianchi a muoversi affinché si integrasse l'atto di indirizzo e e poi a recuperare 100 milioni di euro in più oltre a un impegno ad ulteriori risorse che andranno anche quelle almeno in parte come c'è scritto sulla sull'intesa politica nel tabellare quindi è un contratto in due tempi mettiamola così un primo tempo che si è concluso venerdì all'aran in cui peraltro si esplicita proprio la dimensione unitaria di questo contratto tra la parte economica appena siglata nel trattamento fondamentale quella normativa lo ribadisco per noi molto importante che si sta negoziando e quindi ecco il risultato di cui discutiamo oggi ma è molto importante specificare che non è l'intero contratto l'intero contratto io spero si potrà firmare in tempi ragionevolmente brevi considerando che ci sono nodi da sciogliere che riguardano come sempre la parte normativa e anche qualcosa in più di sempre perché questo è comparto istruzione ricerca pensate oltre tutte le questioni che riguardano il nuovo sistema di classificazione professionale e personaleata il tema delle sanzioni disciplinari il tema della formazione diritti dei precari anche quelle che sono attinenti ai settori appunto della ricerca e dell'università non è non è una cosa banale ma penso che è la classica situazione in cui le parti fanno una buona cosa sinopoli sulla assegnazione dei fondi diciamo delle economie che vanno da circa 60 a poco più di 100 euro lordi a dipendente non vi sono dubbi che vengano assegnate entro natale perché mi sembra di aver capito che gli organi di controllo faranno insomma un lavoro super veloce avete avuto garanzia in questo senso vero? veramente questo è il punto di partenza di questo negoziato certo non è che abbiamo una garanzia è stata un'esigenza del tesoro bisogna essere onesti ad accelerare questa volta un'esigenza che è stata accolta secondo me dalle parti e orientata al fine di allargare poi quello che sarebbe stato diciamo così l'esito naturale per la controparte cioè distribuire solamente i soldi che ci sono invece abbiamo già visto delle cose in più possiamo dire che l'esigenza del tesoro derivava dal fatto di dover liberare queste risorse parliamo di oltre 3 miliardi di euro entro la fine del 2022 forse anche per motivi legati al pnrr o è una ipotesi fantasiosa? ma allora qui è inutile fare delle speculazioni io penso che questa gobba di spesa nel 2023 sarebbe stata forse più problematica da gestire e del resto non ci sfugge anche l'operazione che poi più complessiva e riguarda le esigenze stringenti di questa fase dove tutti sono in grande difficoltà quindi certo si parte dall'esigenza del tesoro un'esigenza di natura appunto di contabilità dello Stato ma poi c'è la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori e di cui tutti siamo consapevoli quindi questa accelerazione andava assolutamente sfruttata se ci vogliono ordinariamente 4 5 6 mesi per certificare un contratto qui ce ne metteranno molti di meno ma anche ovviamente la parte accessore la parte normativa per valutare complessivamente l'impatto economico considerando che come scritto nell'intesa le risorse aggiuntive più di 100 milioni saranno finalizzati a elementi fissi e ricorrenti della retribuzione sia del personale docente che che ATA poi gli aumenti complessivi saranno superiori a quelli che vediamo oggi io spero per questo che si possa chiudere anche quella seconda parte velocemente in modo che i lavoratori abbiano la percezione di qual è il risultato di tutta questa partita contrattuale ben chiara adesso vedono la parte tabellare il trattamento fondamentale poi vedranno anche le voci fissi e ricorrenti che incrementeranno la retribuzione di base è impossibile fare una proiezione sulla quantità complessiva degli aumenti adesso ricordo si aggirano tra i 60 100 110 euro lordi non so c'è un obiettivo arrivare ma non c'è un obiettivo ci sono dei soldi che sono stanziati qui basta fare le somme questo questo gli 80 milioni di euro che erano sul salario accessorio del personale docenti e i 14 e 8 che stavano sul salario accessorio del personale ATA che saranno finalizzati a RPD e CIA c'è scritto nell'intesa politica e quindi determineranno un aumento delle risorse che adesso si vedono in busta paga ci sono i 100 milioni che verranno ripartiti nella stessa proporzione tra personale docente e personale ATA ricordiamoci che questa non era la condizione di ingresso della trattativa nella condizione di ingresso della trattativa queste cose non c'erano c'era solo la ripartizione anticipata del tabellare e ci sono i circa 300 milioni del fondo per la valorizzazione professionale che andrà a RPD per questo le retribuzioni supereranno per i docenti anche i 120 euro e per gli ATA si avvicineranno molto ai 100 bisogna poi capire se si riesce e come ha scritto ha dichiarato il ministro abbiamo scritto nell'accordo a recuperare ulteriori risorse cioè risorse che si aggiungono a queste in legge di bilancio che non potevano essere quantificate perché la legge di bilancio ancora non ha iniziato il suo iter ho capito e quindi è una partita che rimane ecco su due tempi rimane decisamente aperta e voi sperate di chiuderla quando anche a livello normativo non ci sono generalmente gli accordi i contratti si firmano quando sono maturi per essere firmati in questo caso questa questa anticipazione può permettere diciamo così di concentrarci sui nodi normativi noi stiamo trattando ricordiamocelo sempre quattro contratti dire che questo è un contratto è falso sono quattro contratti tutti diversi l'aran ha una sola delegazione posso dire che per quanto riguarda la cgl noi siamo pronti a negoziare tutti i giorni fino alla chiusura io spero che arrivi velocemente perché come ho detto prima è importante che ci sia anche una dimensione percepita una dimensione unitaria del contratto non c'è solo la parte economica che è importante ci sono le risorse più che arriveranno c'è ribadisco la parte normativa che per noi è fondamentale ci abbiamo messo la faccia quando qualcuno diceva queste state chiudiamo con quello che ci abbiamo detto di no abbiamo fatto bene perché intanto già c'è qualcosa in più ci sarà dell'altro e poi soprattutto la parte normativa è il contratto non siamo solo degli agenti tariffari come sindacati quindi a chi sostiene che i sindacati non hanno ottenuto poi un grande risultato insomma cosa possiamo rispondere questa purtroppo non è stagione di grandi risultati questa è una stagione se possibile più difficile di quella che avremmo immaginato ancora qualche mese fa e credo però che si sia fatto bene il lavoro di rappresentanza degli interessi di conseguenza bisogna guardare bene a quello che abbiamo portato a casa se gli aumenti supereranno sarà così per i docenti 125 euro complessivamente e per gli altri si arriverà ai cento può darsi che arrivi qualcosa in più io quando leggo impegno non dico che sono certo noi lavoreremo perché quell'impegno si concretizzi e adesso bisogna portare a casa i risultati sulla parte normativa ripeto la riforma del sistema di classificazione professionale il tema della formazione anche lì sono soldi insomma mi pare che pur in un contesto lo ribadisco molto difficile perché su un punto solo sono d'accordo con la presidente del consiglio siamo in una situazione drammatica il costo dell'energia aumenterà al di là delle delle promesse c'è un'inflazione al 10 per cento questo contratto doveva essere chiuso e chiuso bene bisogna poi partire subito con il prossimo triennio questo è scaduto ormai e lo sappiamo ok sinopoli siamo in chiusura un'ultima un'ultima domanda sulla parte normativa verrà avviata credo a breve nei prossimi giorni diciamo la trattativa il confronto e sono tantissimi temi ne abbiamo parlato anche abbiamo fatto cello prima ma secondo la cgl quali sono le le priorità su cui non si transige su cui bisogna intervenire assolutamente perché l'abbiamo detto tante volte anche dopo a seguito del covip vi sono delle necessità su cui appunto intervenire a livello contrattuale e su cui non si può più attendere dunque io faccio una una lista molto semplificativa ma è del resto quella che avevamo anche inserito nell'intesa politica e c'è il tema sicuramente che va sciolto delle sanzioni disciplinari la necessità di un organismo terzo smontare un meccanismo che con la scuola non c'entra nulla l'idea che siano in capo al dirigente scolastico che che peraltro è stata stigmatizzata dalla diverse sentenze nella evidenza del contrasto con il principio costituzionale della libertà di insegnamento il tema della formazione che deve essere retribuita oltre che contrattata per tutto il personale tema dei diritti dei precari c'è una insopportabile discrepanza tra i diretti diciamo più che discrepanza un'insopportabile a questo punto anomalia tra quello che c'è nel contratto della scuola per gli altri contratti dei settori pubblici anche privati alcuni diritti possono essere graduati ma non possono essere ignorati e quindi a me sembra che su questo sia indispensabile un intervento cioè il sistema di classificazione personale e personale ata cioè non corrisponde più alla realtà sono mansioni infinitamente più complesse c'è il tema poi della valorizzazione del lavoro specifico dei dsg sono di importanti nodi che affronteremo e proveremo a fare dei passi in avanti mentre parlava credo che valga la pena capire qual è la posizione della cgl sul middle management che sono che prevede mani guarda bella questa domanda ma anche perché ho letto mi hanno raccontato che ci sono posizioni di qualche organizzazione ma io sinceramente penso che non debba neanche essere oggetto di un negoziato proprio contrario non mi pare che sia questo il problema della scuola oggi ecco ok quindi non è questa una priorità sicuramente e l'ultima invece riguarda l'allora dl 36 tramutato poi legge 179 ma secondo voi ci sono degli spiragli avete l'impressione proprio collegandovi al contratto stesso che vi sia questo governo voglia modificare quel quell'impegno che è stato preso a livello legislativo oppure si va avanti su quella strada dunque noi sfideremo il governo su quel punto abbiamo fatto uno sciopero contro quella norma va abrogata e quelle risorse vanno recuperate altrove e devono sostenere il contratto collettivo nazionale di lavoro saranno le organizzazioni sindacali a definire gli strumenti migliori per valorizzare il lavoro dei docenti sicuramente non è quella la via va bene noi ringraziamo francesco sinopoli segretario generale flccgl grazie buon lavoro e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori e lettori alla prossima puntata il prossimo incontro sui canali della tecnica della scuola grazie 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 grazie